E allora emerge che ogni mese la campania produce un volume di rifiuti equivalente al riempimento di uno stadio, uno stadio da calcio con la pista d'Atlantica e una tribuna di 15 metri all'altezza. Ogni mese la campania ne riempie. Allora in un anno noi abbiamo bisogno di 12 stati, è semplice, il mese prossimo l'unica discarica chiude dopo 14 anni. Allora mi ero reso conto che non è un problema di scelta tecnica. Oggi qualsiasi sito per discarica si proponga non viene assolutamente accettato dai cittadini e dalle istituzioni locali perché è evidente che l'istituzione che lo propone è una istituzione con assolutamente più credibilità. È vero che il commissariato sbaglia ma sbaglia perché ha a mondiale delle indicazioni precostituite che non si basano sulla validazione tecnico-scientificata. Buongiorno, non potete entrare. Perché non posso entrare? Siamo chiedi almeno che tu sei questo. è immondizia coltato da qui sopra tutto. Da qui sopra tutto? Questi sono le vostre ague, le vostre tutte in benzina, le vostre tutte in benzina. Allora questo che cuore ci sta, in dalla raffineria. Questa è solo della cuore. una sacco lavoratore ci mette tanto in difficoltà. Questi camion cosa contengono? Sono pieni, sono vuoti? Non lo so. Ma di chi è questo solo? La proprietaria di questo solo? Non lo so. Ma lei come si trova qua? Io perché è scaricato. Lei per chi lavora? E' la SIA. Quindi la SIA sta scaricando qua dentro? Questi serbatoi sono ancora pieni di benzina. Sì, quello è super. Dietro voi avete, vedi? Se vai inquadrare un attimo ci sono dubbi dell'olio tutto. Sono dubbi dell'olio tutto questi qua. Ma questo dopo varie proteste adesso hanno messo questa rete. Prima stavano che i bambini ci giocavano solo. E' olio, casa olio, super. Va di fornire la guante, guarda, di fronte. E non vi hanno detto che lo sei una discarica? No, ci dicevano che era un sito di emergenza di 20 giorni, un mese. Quanto dura? Quasi due anni. E' una discarica di tal quale, sono inerti, secca, lunga. Voi lavorate tutti qua? Tutti. Per la SIA? Sì. Il proprietario di quest'area chi è? Ma lei lavora qui e non sa di chi è. Per chi lavora lei? Queste strutture sono di proprietà comunale o privata? Io so che sono proprietà comunale. Quindi è il comune che ha deciso così? Non lo so chi ha deciso, certamente noi. E qua, insomma, è tutto sanitariamente pulito, no? C'è la raccolta del percolato, queste cose qui? La raccolta del percolato. La raccolta del percolato è mica quello che sta nel fondo. Il problema è che Napoli sta pieno di rifiuti. Quindi noi stiamo cercando solo di dare una mano alla città e alla cittadinanza. Poi questo diventa anche un problema. Come si può dire? Sono abusi che fanno. È una discarica a cielo aperto. Siamo a 500 metri dalla stazione centrale. 500 metri da Pondiceli, 500 metri da San Giovanni e 500 metri da Paglia. Allora, io ho seguito per prima, a partire dal 2004, la proposta di discarica di fronte a Serra Campagna. Pur dimostrando la impossibilità di realizzare la discarica a Campagna, a Basso dell'Ulmo la fecero. Poi dopo è stato registrato, filmato, la fuoriuscita di percolato dalla discarica che andava nel sede ed era la logica conseguenza perché durante la realizzazione della discarica avevo fotografato, segnalato e denunciato gravissimi errori e lì cominciai a valutare la gravità delle proposte fatte e l'assenza assoluta di una istruttoria tecnico-scientifica a monte. Fu costituito un comitato paritetico di esperti che dovesse valutare l'idoneità geologica ambientale del sito di Valle Masserie che era già stato scelto dal commissariato. Apparve palese che la scelta era praticamente non basata su dati tecnico-scientifici ma l'unico parametro ritenuto valido era la vicinanza all'uscita dell'autostrada di Campagna. Si ricorse al decreto legge dell'11 maggio 2007 che per decreto legge individuò in serre uno dei siti da realizzare e quindi il comitato tecnico-scientifico fu sciocco. Questo decreto è stato trasformato in legge il 5 luglio e individuò a rediscariche e poi il commissario delegato che ha sostituito il dottore Bertolaso non l'ha realizzato. Deve sempre dire perché non l'ha realizzato. Poi perché improvvisamente a fine dicembre tira fuori pianura? Grazie a tutti! 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 Californiaö, per Hollywoodo, Elvis, Disney, Lex power Grazia, Lakota, C Berkeleyo, che seria di Santistminute Tiot sam, sitio sam, sitio sam, sitio sam, sitio sam Sitio euh, sitio sam, sitio sam, sitio sam Negli anni 90 con l'università svolgemo una consulenza scientifica alla provincia di Avellino per metà provincia di Avellino e dovevamo individuare siti, doni facendo l'indagine multidisciplinare, consegniamo i risultati appena riconsegniamo il presidente della provincia Pidò segretò i risultati e individuiamo circa 30 siti